Sit-in di protesta questa mattina a Bari, fuori dall'orario di lavoro del personale impiegato nel comparto servizi fiduciari nel plesso dell'autorità di sistema portuale del mare adriatico meridionale. Le organizzazioni sindacali Filcams e Cigelle, Fisaskat e Cise e Wiltux hanno espresso preoccupazione su quanto garantito dal verbale di accordo con le organizzazioni sindacali, nonché le numerose rassicurazioni fornite dalla presidenza dell'autorità portuale durante numerosi incontri, come spiega meglio Nicola Colella della Fisaskat Cise di Bari. Sì, infatti stiamo facendo questo sit-in fuori dall'orario di lavoro a seguito di una situazione paradossale per questo appalto. Il 29 ottobre è stato siglato un verbale di accordo sindacale a livello regionale, dove le due società che hanno rilevato le quote della Porti Levante, che era una società partecipata, ha rilevato tutto il personale a norma di legge del 2112, con l'impegno di mantenere tutte le condizioni retributive e soprattutto i livelli occupazionali. Che cosa si sta verificando? Che subito dopo la firma di questo verbale ci troviamo a gestire una situazione, come dicevo prima, paradossale. Nove lavoratori dei servizi fiduciari si trovano, in sintesi, a lavorare due ore, tre ore al giorno con una decurtazione pari quasi all'80% della retribuzione. Die di più che tutte le rassicurazioni preliminari alla gara che è stata aperta, questa gara europea, rassicurazioni da parte del Presidente Padroni Griffi, dove rassicurava le organizzazioni sindacali di categoria che nessun lavoratore ci avrebbe rimesso un solo posto di lavoro. Questo non si sta verificando. Le società che sono subentrate hanno fatto sapere che non ci sono le condizioni per ricollocare questi lavoratori. Una gara europea che cuba 54-58 milioni in otto anni e stiamo gestendo una situazione che mette a repentaglio circa sette famiglie. Quindi abbiamo anche fatto richiesta di incontro con le segreterie regionali alla Presidenza, non abbiamo avuto ancora nessuna risposta. C'è anche il discorso della tredicesima che non si sa chi la deve retribuire, se la Porti Levante o piuttosto le società che sono subentrate. Lo stesso problema bisogna iniziarlo anche ad annunciare, ce l'abbiamo anche con i servizi di guardie giurate, che stiamo riscontrando che le ore di colpo messe a disposizione non sono capienti proprio per soddisfare quello che erano i parametri contrattuali. Abbiamo anche rilevato che una serie di servizi in capo a Porti Levante sono stati inspiegabilmente affidati a un'altra società che opera da tempo all'interno del porto. Quindi di qua la grande preoccupazione per la salvaguardia di questi lavoratori, con la speranza che l'autorità portuale si degni di riceverci e di fare chiarezza, perché nulla di quello che prevedeva quel capitolato sta garantendo le aspettative di questi lavoratori.